Supera quota 50 l'incidenza di positivi al coronavirus su 100.000 abitanti nelle Marche, ma il numero di ricoverati resta fermo ad 81, con una percentuale di occupazione dei posti letto nelle terapie intensive, inferiore alla soglia critica della zona gialla. Il picco dei contagi giornalieri, in totale 159, lo ha segnato la provincia di Fermo, con 39 casi. Seguono le province di Macerata, 32, Ascoli Piciano 29, Pesaro Urbino 23, Ancona 15, oltre a 21 casi di persone provenienti da fuori regione. Il totale dei tamponi eseguiti è invece di 3.342, tra i quali 1.899 del percorso diagnostico, dove la percentuale di positivi schizza all'8,4%. Tra l'altro nel Dipartimento di Virologia di Torrette, diretto dal professor Menzo, sono stati isolati altri due casi della temuta variante Delta Plus, all'interno di uno stesso cluster familiare. Dati che il presidente della regione Marche, Acquaroli, commenta così. Si conferma un trend in aumento, che un po' ci aspettavamo dopo il giorno del lunedì e del martedì, che sono stati giorni anomali, un po' di festa, quindi chiaramente il tracciamento è un po' come accapita spesso in queste occasioni, saltato. Però è sicuramente una tendenza che va attenzionata e che dobbiamo tutti quanti osservare con estrema cautela. Intanto si contano altri due recessi registrati nelle ultime 24 ore, un 75enne di Serra dei Conti nel Lanconetano e un 86enne di Pesaro con patologie pregresse, che fanno salire il totale regionale di vittime correlate alla pandemia a 3.111. Nel quadro dei ricoveri si rilevano due pazienti in più nella terapia intensiva e uno in più in quella semi-intensiva, mentre diminuiscono di tre unità i ricoveri dei reparti non intensivi, con il totale di degenti stabile ad 81. Nove, infine, i dimessi nell'ultima giornata. Acquaroli, in questa fase delicata, con un possibile colpo di cora del Covid, fa di nuovo appello alla prudenza dei marchigiani. L'invito è quello del rispetto delle regole e a tenersi a tutte le precauzioni che sono consigliate, perché sicuramente questa fase è una fase che va gestita con la massima attenzione da parte delle istituzioni, ma anche da parte di tutti i cittadini, che devono aiutarci a comprendere la difficoltà della ricordoscenza del virus o di evitare situazioni e scenari che non vogliamo più vedere nella nostra regione.